Luca Comics & Games Luca Comics & Games Poi questa fiera sono i nostri personaggi che sfilano si lenti, immersi da un misto di voci, musica e urla, illuminati dal sole e dai flash, immortalati dalle pellicole o nei video come questo. Luca è fila, parlare, scambiarsi opinioni e acquistare come se non ci fosse un domani. Luca è sole, è pioggia, è freddo, ma ti regala sempre quel calore che riesci a provare solo in quattro giorni all'anno. Luca è preparare le valigie, preparare i propri costumi, organizzare itinerari e scrivere liste. Luca è tornare bambini. Luca è tornare bambini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.